Manifestazioni sull'isola per quanto riguarda la giornata contro la violenza sulle donne, c'è un'interessante manifestazione che è stata organizzata all'Acquamena, Avvocato Proto. Sì, buongiorno. Abbiamo organizzato questa conferenza stampa che si terrà sabato 24 alle 10.30 presso la Sala Consigliare del Comune di L'Acquamena. Il progetto si chiama Donna a tutto tondo e la particolarità di questo progetto è che inizia il 24 novembre e finirà l'8 marzo. presentiamo già alcune iniziative sabato ma in realtà è un programma non chiuso, non definitivo perché stiamo avendo adesione sia da diverse istituzioni sia da diverse realtà associative e il nostro obiettivo sarebbe quello di arricchirlo e quindi di dare la possibilità a tutti coloro che interverranno sia come istituzioni non solo a livello locale ma anche, ci sarà la partecipazione probabilmente della città metropolitana con la commissione alle pari opportunità, la regione Campania, l'assessore anche mi dovrà far sapere. noi diamo loro ampia libertà e discrezionalità nell'organizzare un evento un evento che però ha un fine comune, cioè questo deve essere un percorso culturale parte all'interno delle scuole, infatti ci sono già due scuole che hanno aderito e sono il Vincenzo Mennella di Laccamenio con la dirigente Assunta Barbieri il Cristofaro Mennella con Giuseppina Di Guida e loro saranno presenti sabato parte dalle scuole quindi ci deve essere un percorso culturale perché non dobbiamo arrivare al 25 novembre da ogni punto di vista e quindi partiamo dalle scuole affinché poi sia la società a beneficiare di questo percorso uno dei partner più importanti che subito mi ha dato adesione è sicuramente la FIDAPA sia nazionale nella persona di Caterina Mazzella sia locale nella persona della Presidente Maria Francesca Ferrandino ma di tutte le associate d'accordo con loro abbiamo presentato al Consiglio Comunale l'altro ieri una proposta di adozione della nuova Carta dei Diritti della Bambina è passata all'unanimità e sabato quindi iniziamo con questo con la presentazione della nuova Carta dei Diritti della Bambina e poi ci sarà anche un evento simbolo diciamo che è quella dell'inaugurazione di una panchina rossa simbolo insomma della lotta alla violenza di genere